Beccati questo! Beccati questo! Anche tu! Anche tu! Così, così! Anche tu! Anche tu! Andiamo, andiamo! Vieni! Vieni! Ehi! Beccati questo! Ehi! Beccati questo, Bebby! Beccati questo! Beccati questo! Andiamo, andiamo! Vieni, vieni! Andiamo ancora, ancora! Ho beccato anche te! Tutti quelli che scappano sono gli X-Kong! Tutti quelli che restano fermi sono gli X-Kong molto ben educati! Ragazzi, voi dovreste scrivere un articolo che parla di me, una volta o l'altra! E perché dovremmo scrivere un articolo che parli di te? Perché io sono il meglio di tutti! E non raccolto stronzate! Ne ho ammazzati esattamente 157 di quelle bestie gialle! E 50 bufali pure! E sono tutti confermati! Ammazzi anche donne e anche ragazzini! Se capita! E come fai a sparare sulle donne e sui bambini? È facile! Vanno più lenti, miri più vicino! La guerra è un inferno, no?